c'è un bellissimo momento che si descrive il momento delle stimmate di francesco dove lui ebbe come un incendio mentale ecco la fede per me è un incendio mentale cioè o ti colpisce durante la vita ma non è necessario che ti colpisca dall'inizio della tua vita può anche avvenire improvvisamente casualmente per un dispiacere per un problema per un superamento di un problema per un momento classico di depressione perché a cui tutti noi andiamo incontro e allora si può fare l'incontro con la fede che ti può aprire delle prospettive diverse nella tua vita e farti comportare diversamente con gli altri con te stessa farti capire farti riflettere a